Sì, ho fatto partire adesso Aspetto un attimo che guardo Su YouTube Aspetto un attimo che guardo I don't know Aspetto un attimo che guardo 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 I don't know Aspetto un attimo che guardo Aspetto un attimo che guardo Aspetto un attimo Aspetto un attimo che guardo Aspetto un attimo che guardo Ufff Aspetto un attimo che guardo 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 Cazzo attacco qui Se la sacrifichi metti in campo una pedina 1-1 con volare Ecco cosa fanno queste carte non l'avevo mai capito Cazzo attacco qui Allora Col 3-3 li blocco il 2-2 Il 3-3 Ok Non me lo fa bloccare Non me lo fa bloccare Non me lo fa bloccare Che a volare Non lo posso bloccare Ah Col 1-1 il 3-3 Hmm Cosa ha fatto Non me lo fa bloccare Vabbè tanto anche quella funziona Anche questa qua unisce Non costano No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, però c'è anche il 6-6. No, non attacco qua. No, non attacco qua. No, non attacco qua. No, non attacco qua. Avrà comprato tutti i pacchetti. No, non attacco qua. 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 è uscito, è uscito, è uscito. No, non attacco qua. 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 No. No, non attacco qua. No, non attacco qua. No, non attacco qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non c'è mai nessuno che mi guarda su Twitch. Volevo cercarmi per vedermi dal telefono ma mi trovo. Grazie a tutti. Oh ecco. Ah mi sto guardando dal telefono. Oh ecco. Arriva la voce in ritardo. Cazzo di Twitch di Twitch. E dai. Ciao. 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 C'è fermato. Ciao. 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 mi dice cos'è provo a rimandarlo no no io non sono entrato fidati io non sono entrato sono entrato fidati sono nel menu rimandami l'invito è sta in notezza sta caricando è ma sta caricando carica carica all'infinito non so che cazzo succede provo a invitarti io proviamo non mi va non va neanche l'input ma che cazzo succede che cazzo succede che cazzo succede non ti è arrivato che cazzo succede ancora non è partito avversario ah eccoti avversario casuale si 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 sta caricando ricerca di altri giocatori in corso ma mi stai guardando in là è perché sento la mia voce che cazzo succede dal telefono si vede normale fluido perché a me qua dal mio telefono ogni tanto mi si blocca se sarà colpa del telefono allora ci sono due spettatori saluto gemini un grande uomo per una grande nazione a dire a dire aspetta ho visto qualcosa sembra ok allora facciamo io facciamo uno contro uno che prenderò una legna ma ne son fatto un altro ma posso anche usare tanto peggio di così ma bene no ecco signori vedrete come perdere come perderò brutalmente ci siamo l'agonia inizia che sento la mia website mi esce parte già iniziamo non 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 vi ricordo che in questa partita non sono concesse le carte cattive è vero niente niente fantasmi diabolici niente illusioni niente esplosioni galattiche niente attacchi ecco c'è un arbitro in ascolto prego di segnalare gemmi non ho sufficiente terra per evocare creature che bello grazie a tutti 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 E poi Grazie a tutti 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 Gemini Gemini Grazie a tutti Perfetto Un momento di Secondo Grazie a tutti Quelli che non si Grazie a tutti Perfetto 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 Tagliare il Banner? Banner? Grazie a tutti Perfetto Grazie a tutti Perfetto Perfetto Grazie a tutti Perfetto 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 Sera barra slush Sera barra slush Ma che cazzo di sito badato Mi sembra che mi ha dato un sito per aiutarmi Allora Sera barra slush Sera barra slush Mi dice perché non mettere un banner Resti Por Miniera d'oro Per una miniera d'oro Ah il banner Quello quando sono fly O del mio profilo tipo Roba del genere Si lo so Metto il mio facione Via Io basso le 5 Da un po' che non facevo Ok Fermo la live Grazie a tutti